La legge 84 di riforma sanitaria pubblicata sul bollettino ufficiale della regione toscana, la legge che oggi è in vigore, è diversa dalla legge approvata in consiglio regionale. Secondo noi questo è un illecito e andremo alla magistratura a denunciare con un esposto il fatto. Di chi è la mano? La mano è dell'unico responsabile, in questo caso, della legge 84 che è l'assessorato alla sanità. E' per questo che noi riteniamo che ci sia una forma di stralcioneria arrogante per cui merita la Saccardi di essere sfiduciata. Questo è il ragionamento che noi facciamo. La legge stessa, nella fretta, è stata approvata addirittura con la mancanza della definizione territoriale delle aree vaste. Quindi i direttori d'area vasta che sono stati nominati stanno governando il nulla. E' una cosa di una gravità inaudita perché depone per un sistema arrogante e un sistema incompetente che ci governa.